Un orso d'oro alla carriera per uno dei più grandi registi europei. La Berlinale premia con il riconoscimento più alto il lavoro del regista britannico Ken Loach, che con i suoi film ha raccontato in maniera impietosa l'epopea drammatica delle classi lavoratrici. Stiamo vivendo tempi cupi, a volte è difficile ricordarselo. Se prendo un momento per dire qualcosa agli europei qui è perché credo che molti di noi siamo europei. Non so come la pensate, ma credo che ci sia proprio bisogno dell'Europa unita. Ci siamo tutti dentro. Noi siamo l'Europa e dobbiamo trovare delle ragioni comuni. Il grande Loach, oggi 77enne, non ha mai ceduto alle sirene di Hollywood. Lo dimostrano tutti i suoi film, da Piovono Pietre, Lady Bird, Lady Bird, la canzone di Carla, Terra e Libertà, il mio amico Eric, e Il vento che accarezza l'erba, con cui si era giudicato la palma d'oro a Cannes nel 2006. Anche nel più recente La parte degli angeli, il protagonista è un ex criminale che si impegna a regalare una vita migliore al figlio. E intanto il regista sta girando il suo ultimo film. Come a passare! Grazie a tutti.